A quasi due anni dal suo annuncio entra nel vivo il nuovo centro parolimpico del nord Italia di Villanova sull'Arda. Sugli oltre 5.000 metri quadrati di terreno acquistati dall'Ausle di Piacenza, soggerà la piscina coperta del centro che servirà un ampio bacino d'utenza. Si tratta del primo stralcio per il quale è stato aperto un bando per la realizzazione dell'importo complessivo di 3.831.000 euro. Le offerte caricate attraverso il portale Sater dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 30 novembre. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio con vasca da 25 metri per 12,5, 6, le corsie che saranno effettuate e messe a disposizione per l'attività agonistica a livello locale, campionati italiani regionali, per l'attività natatoria. Saranno utilizzate le più elevate tecnologie ed avanguardia per la realizzazione della vasca che disporrà di alte prestazioni. La reception sarà provvista di zona ristoro, sala polivalente, spogliatoi utenti ed addetti, il locale tecnico e il deposito. Sarà realizzato in un unico volume fuoriterra di altezza ridotta rispetto al volume dello spazio di attività, ottimizzando da un lato gli aspetti gestionali e dall'altro rendendo più razionale la composizione architettonica dell'edificio che prevede un trattamento materico diverso rispetto al volume principale. Se tutto procederà come da copione il centro aprirà nel 2022 a tre anni dalla sua sottoscrizione stipulata tra Regione, Emilia-Romagna, Comune e Dausl di fronte ai medici della struttura ospedaliera di Villanova.